Benvenuti, siamo collegati con la redazione di Irpinia News per vedere le notizie flash. Schiamazzi notturni a Prada Principato Ultra, tre giovani vengono deferiti dai carabinieri. Barbara D'Urso non ci sarà a Cervinara, ma il battesimo di Gioia, la figlia della baby mamma di 16 anni, comunque si farà questa volta in diretta su Canale 5. Sottraeva soldi ai detenuti, un agente della Polizia Penitenziaria di Salerno viene arrestato. All'Auro la gravidanza di Carolina procede bene, c'è speranza per il feto. Infine lo sport, basket, ieri il torneo Vito Lepore, la scandone vince. Dalla redazione è tutto, vi ricordo prima di lasciarvi che da domani è in edicola il settimanale il bianco verde. Buona giornata. Buona giornata.